Dal 2 al 7 luglio si rinnova l'appuntamento con la storia e la cultura grazie alla quarta edizione dell'Abruzzo Grand Tour, manifestazione turistica dell'Abruzzo Drivers Club di Avezzano, organizzata dall'SD Cultura e Motori e dedicata alle auto d'epoca, costruite sino al 1972 dall'alto valore storico e collezionistico. 750 chilometri per far conoscere le bellezze della regione. Per questa edizione, oltre alla tappa del Gran Sasso e le visite a Penne, Guardia Grele, San Giovanni in Venere, Costa dei Trabocchi, Francavilla, Passo Lanciano, Raiane e Avezzano, sono previste anche delle prove di abilità, di regolarità classica con cronometri meccanici per rievocare le grandi corse del passato. Saranno 15 equipaggi e tante le nazioni rappresentate. È una promozione territoriale fondamentale, caratterizzata da un tour di macchine internazionali, quindi vengono da tutto il mondo, che avrà un'attenzione fondamentale per quelle che sono le nostre bellezze sia paesaggistiche che anche enogastronomiche. Noi nomineremo 15 ambasciatori dell'Abruzzo, che sono equipaggi che vengono da tutto il mondo. Ci saranno equipaggi provenienti dal Giappone, responsabili della Federazione Internazionale delle Auto, che è giapponese, e poi ci saranno equipaggi dall'Australia, Stati Uniti e da tutta Europa. È il modo migliore per far conoscere le bellezze della nostra regione attraverso un turismo lento e anche di livello alto. Con gli organizzatori partimmo nel 2012 come comune di Avezzano, fu una nostra idea e oggi devo dire che grazie anche all'assessore Quaglieri, che si è molto prodigato, l'abbiamo estesa su tutta l'Abruzzo. Avezzano poi faremo la serata del circuito proprio della città di Avezzano e quindi invito tutti a venire perché sarà una serata eccezionale, è una serata veramente piena di macchine che cammineranno non facendo corse ma facendo delle passeggiate per le strade della città e vedrete delle macchine da tutto il mondo. Tanti patrocini e collaborazioni come sponsor Strada dei Parchi. Quella tra Strada dei Parchi e l'Abruzzo Grand Tour è sicuramente un sodalizio vincente e di successo, entrambi impegnati a valorizzare le caratteristiche del nostro bellissimo territorio, naturalmente anche la sicurezza e il comfort che noi come gestori ci impegniamo quotidianamente nei confronti degli utenti tutti i giorni.